Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926 Per prima cosa iscriviti al canale è gratis Ragazzi non ce la fanno più a vederci vincere Perché dico così? Perché dopo la questione Mario Rui, la gente di Mario Rui, non Mario Rui Dopo i continui attacchi a Lorenzo Insigne che non rinnova il contratto Dopo i continui Insigne sbaglia i rigori Quindi il prossimo rigorista non deve essere Lorenzo Insigne Hanno attaccato nuovamente il Napoli su un altro fronte, su un altro giocatore Questo giocatore tirato in questione questa volta è il Ciuchi Lozano Abbiamo visto tutti la smorfia di non approvazione al cambio Che ha subito domenica sera contro il Torino Partita vinta 1-0 tra l'altro gol di Ozyman C'è molta indignazione da parte dei giornalisti Perché hanno detto che non lo doveva sostituire Lozano ora si creerà un caso Lozano di qua Ma carissimi giornalisti e carissimi tifosi napoletani Io mi sarei preoccupato più se Lozano fosse uscito E non si sarebbe incazzato Vi dico la sincera verità Spalletti ha fatto la scelta di sostituire Lozano Per mettere Juan Jesus Perché Lozano a quel punto stava giocando da terzino Praticamente negli ultimi minuti finali E ti serviva veramente un altro difensore centrale Per spostare Di Lorenzo più sul terzino Più sull'esterno scusatemi E quindi c'è stata questa opzione Naturalmente non può togliere Ozyman Ragazzi Ozyman è uno che ti fa il reparto da solo L'abbiamo già detto L'ho già detto nel video con il Torino E quindi ragazzi È inutile che provate ad attaccare il Ciuchilo Zano Allora dovreste attaccare anche Insigne Perché tutte le volte che esce Fa la smorfia, sbuffa No ragazzi Questi giocatori Questo allenatore ha creato un gruppo Che vogliono giocare tutti E questo è il bello di questo Napoli Che tutti quando entrano danno il mille per mille Non il cento per cento Ma il mille per mille Proprio perché vogliono portare a casa il risultato Questa cosa è successa a Lozano Ma poi succederà anche a Ozyman Succederà a Insigne Succederà a Politano A Zelischi A Kulibaly A Manolassa A Racamani A tutti gli undici titolari Che ci sono in rosa L'unica forse nota negativa Che posso dire E non far giocare spesso Meret Ma di sicuro lo farà giocare giovedì In Europa League Quindi stiamo tranquilli ragazzi Non creiamo caos nello spogliatoio Perché non ha senso creare Un caso Perché qui si sta parlando di un caso Lozano Addirittura già leggo Sulle varie testate giornalistiche Su Facebook Su Instagram E su tutti i vari social Quindi state tranquilli Non c'è nessun caso In casa Napoli Lozano è sereno L'hanno confermato anche i giornalisti napoletani Lunedì Quando la squadra è ritornata ad allenarsi Perché per vista dell'Europa League E quindi Non c'è niente Da aver paura Lozano è un giocatore Che sa fare Quello che sa fare Spalletti Lo ha tolto Perché l'ho già detto In quel momento si doveva difendere Doveva difendere l'1-0 Perché l'1-0 Ragazzi Perché il Torino Ci ha provato fino alla fine A pareggiare questa partita E addirittura Ha provato a vincerle Se non fosse stato Per Ospina Che ha fatto un miracolo Veramente Veramente Eccezionale Il Napoli Si trovava sotto 1-0 Al settantesimo Quindi Guardiamo un po' la situazione E per questo dico che Spalletti è un grande allenatore Perché Spalletti Fino ad ora Si è dimostrato Un top player Il top player Di questo Napoli È Spalletti Ragazzi Poi vabbè Ci sono i vari culibali Insigne Iliosimena Izerischi Lozano Ci sono tanti talenti In questo Napoli Ma per ora La classe E La forza di volontà Di Luciano Spalletti Si sta vedendo Vagamente Ricordo Un allenatore Che esulta In quel modo In faccia All'avversario È brutto da vedere Perché è brutto Però Quando ti esce da dentro Che Iurice Si lamentava Addirittura Dei rinvidi Del portiere Di Ospina Che ritardava Spalletti Si è girato E gliel'ha detto Bimbo caro Ma fino ad ora L'ha fatto il tuo portiere Andava bene Ora non ti vanno più bene E quindi Spalletti È quell'allenatore Che dà la carica A me da Vi posso garantire Che gli dà tanta grinta Spalletti Anche Sul pareggio di Osiman All'Eister Contro proprio All'Eister Che fa il passettino Salta ed esulta Come fosse un giocatore È È bello Vedere questa cosa Di un allenatore Vedi che ci crede Lui ci crede ragazzi Spalletti ci crede Poi ci sono squadre Più attrezzate di noi È normale Però io ci credo Io credo Alla Champions League E credo Che Napoli Possa farcela Qualificarsi in Champions League La prossima partita in campionato Sarà fondamentale Contro la Roma Perché la Juve Poi Affronterà l'Inter Se l'Inter Riperde Perde altri punti Sul Napoli E quindi è da vedere Ragazzi Però prima Della Roma Abbiamo il Legia Il Legia Varsavia Non ha 6 punti A caso Ragazzi Quindi occhio Perché Napoli Ha tutto da perdere Perché Se qualora Dovesse perdere Il cammino in Europa League Sarebbe compromesso Potresti passare per secondo Ma la vedo dura Perché poi Dovevi affrontare Un'altra volta il Chelsea Quindi E il Chelsea Scusatemi Il Leicester E quindi Non è molto semplice Questa cosa Quindi ragazzi Andiamoci cauti Portiamo a casa I tre punti Poi Qualora dovessimo uscire Dall'Europa League Testa al campionato E via A quel punto Pensi solo al campionato Non pensi più Alle trasferte lunghe Perché poi quando andremo a Leija È una trasferta lunga Ragazzi E con lo Spartak Quindi sono trasferte Stressanti Sia mentalmente Che fisicamente Queste trasferte Quindi Cauti Sia in Europa League Che in campionato Non abbiamo ancora fatto niente L'Europa League È apertissima Perché qualora tu Sconfiggi Il Leija-Varsavia Ti porti A 4 punti Almeno 2 Poi c'è lo scontro diretto Con loro Quindi Calmi 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 Io comunque vi ricordo Di iscrivervi al canale Che è gratis Ragazzi abbiamo superato I 2.500 iscritti Vi ringrazio Veramente Veramente tanto Allora il traguardo Sono i 3.000 iscritti Sempre e comunque Forza Napoli Dal vostro Neapolis 1926 Ciao a you Grazie a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti